A Giulia Nova botta e risposta tra l'ex sindaco Francesco Mastromauro e l'attuale amministrazione comunale. Ieri conferenza stampa di Mastromauro che ha snocciolato i dati presentati nel rendiconto delle opere realizzate nei quattro anni di governo dall'attuale amministrazione guidata da Costantini e su cui l'ex sindaco ha rivendicato la paternità della maggior parte delle opere pubbliche in questione. Immediata la risposta del sindaco Costantini che ha replicato punto su punto le accuse emosse da Mastromauro. Io come ho scritto nel comunicato politico perché c'è stato un comunicato tecnico giustamente fatto dall'ingegnere al comunicato politico invito Mastromauro a scendere nuovamente in campo. Lo vogliamo nuovamente in campo e poi saranno i cittadini che bene informati decideranno e capiranno a chi vorranno ancora una volta affidare la loro città. Però i risultati sono sotto gli occhi di tutti, i finanziamenti intercettati sono sotto gli occhi di tutti e la progettualità su alcune opere strategiche come Piazza Dalmazia che arriva finanziata da un avanzo di bilancio e con un progetto che abbiamo discusso in Consiglio Comunale perché qualcuno non voleva penalizzare, qualcuno sì. La back to cost non era quella, c'è un progetto dell'ufficio, domandate al buon Iacovoni o al buon Raffaele Di Marcello che possono testimoniare questo. Quindi ripeto, quando la fantasia supera addirittura l'immaginazione. Mastromauro ha anche criticato l'iniziativa della vela pubblicitaria realizzata da Costantini definendo la forviante e accusando di averla pagata con soldi pubblici. Io non ho bisogno per fortuna dei soldi pubblici per spiegare ai cittadini il buon operato dell'ufficio tecnico, il buon operato dell'assessore di candido. Abbiamo pubblicato le fatture, abbiamo a disposizione i bonifici che partono dal mio conto corrente. Ripeto, io sono un amministratore che a differenza di quello che si è detto non si è aumentato lo stipendio, ma abbiamo solamente percepito quanto era previsto dalla normativa vigente. Qualcun altro invece probabilmente non ha agito in questi termini, sono in corso anche delle forti diatribe e delle cause sono già iscritte a ruolo e in più voglio ricordare che questa non è l'amministrazione comunale che è finita sulle cronache nazionali per degli spiacevoli episodi come degli arresti all'interno degli uffici. Grazie a tutti.